salve a tutti ragazzi bentornati su the science lab oggi tratteremo un argomento molto caro a tutti gli amanti delle bibite e delle caramelle come noi infatti ci immergeremo nel mondo dei più importanti brand di bibite di cui scopriremo segreti e curiosità insieme ma veniamo subito all'esperimento di oggi sono sicuro che almeno una volta da bambini l'avete provato o perché eravate curiosi o perché ne avete sentito parlare che cosa accade secondo voi se a una bibita aggiungiamo una caramella effervescente oppure alla menta andiamo a scoprirlo insieme iniziamo ragazzi con il nostro primo esperimento nella beuta abbiamo messo la bevanda al gusto cola nel palloncino le nostre caramelle l'abbiamo messo per farvi vedere che si sviluppa gas dalla nostra prima reazione andiamo a vedere cosa succede si inizia a sviluppare gas il nostro palloncino si gonfia invece in questo secondo esperimento abbiamo la bevanda gusto limone la bevanda a gusto arancia con sempre le caramelle nel palloncino vediamo cosa succede essendo nella bottiglia la reazione è più violenta nell'ultimo esperimento proviamo a vedere cosa succede a una bevanda energetica fatta reagire con le nostre caramelle sempre nel palloncino si sviluppa gas una reazione più violenta il nostro palloncino si gonfia vediamo qualche curiosità la coca cola fu inventata da un farmacista statunitense nel 1886 il nome della coca cola deriva da due piante la prima è la cola una pianta tropicale di cui l'estratto qui utilizzato in sostituzione del vino presente nella miscela originale la seconda pianta è la pianta della coca la stessa pianta da cui si estrae la cocaina le piantagioni situate in perù sono legali e l'estratto aromatico viene ottenuto nei laboratori della stefan chemical company sotto l'occhio vigile della dia lente antinarcotici statunitense ragazzi per l'esperimento di oggi è tutto mi raccomando ricordatevi di mettere mi piace di condividere il video e di iscrivervi al canale seguiteci sui nostri social che troverete in descrizione facebook su instagram e andate a leggere l'articolo correlato alla tematica di oggi ciao a tutti